Bella tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale, eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Totslayer dei Question Moon, altro episodio del format For The Youth dedicato per gli emergenti è il primo nome che mi è venuto in mente, anzi di regole il primo è stato Reaction Premium ma visto che l'avevano già fatto gli Arcade Boys non volevo copiarli nel caso in cui aveste un nome migliore per questa serie scrivetelo pure nei commenti che prendo spunto visto che non mi fa impazzire comunque chi sono? Sinceramente non li conosco, non li ho mai ascoltati in vita mia, è uscita questa canzone con video ovviamente non l'ha ascoltata ma ho cercato di farmi un'idea su di loro, da come sono conciati dal titolo della canzone potrebbe essere qualcosa un po' di emo, forse punk, non ho idea, lo scopriremo insieme visto che poi in realtà non c'è neanche così tanto da dire, io direi ascoltiamo subito la canzone e poi ne parliamo un po' già la chitarrina ok, abbastanza emo ok questo è ritorno ok 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 Ce n'è uno di un anno fa quindi immagino che comunque sia un gruppo all'inizio Nel video c'erano tre persone però sono solo in due a cantare Questa cosa mi lascia un po' così ma forse il terzo è chi ha prodotto la canzone Come ho già detto non li conosco minimamente Devo dire che non vi siete trovati proprio di culo con me Perché io sono molto pretenzioso su queste robe un po' emo Da grande fan di Lil Peep ovviamente ho notato che con la sua morte Questo genere è un po' scoppiato dappertutto In Italia ci sono stati un sacco di tentativi di ricreare la sua wave E secondo me in pochi barra pochissimi poi hanno tirato fuori canzoni decenti Qui ci vede un po' di potenziale Non è propriamente emo nel senso che ho visto anche altre influenze Come magari può essere il pop punk un po' È da vedere come continuano a droppare singoli Magari se hanno in mente un progetto È da vedere come la cosa proprio si sviluppa Non è male come prima canzone Il video poi è anche girato bene Per quello che immagino possa essere il budget comunque di un gruppo emergente Non mi è piaciuto tantissimo il mix della canzone Nel senso che non suona proprio benissimo Benissimo meglio potrebbe suonare meglio E anche le voci sono un po' basse Le avrei alzate un pochino di più Ma come già detto altre volte Non sono un ingegnere del suono Però mi baso semplicemente su quello che ho ascoltato Ok sono andato ora nella descrizione del video A cantare sono stati No Range e Perkliu Mentre la produzione è di Jaga Che evidentemente è il terzo ragazzo che non ha cantato proprio Da migliorare forse anche un po' l'intonazione Ma se proprio devo scendere nel dettaglio Nel senso che forse se imparano un paio di tecniche Per cercare di dosare meglio la propria voce Sicuramente male non fa Però qua ovviamente già iniziamo a perderci mille dettagli Prendiamo la canzone per quella che è Probabilmente il primo singolo di questo gruppo Che forse adesso ha incominciato a fare le cose più serie Già il video è fatto bene Questo aiuta perché riesce anche ad esprimere un po' meglio Quello che può essere l'immaginario che c'è dietro Il consiglio più grande che posso dare a loro Ma così come a qualunque altro emergente Che sta incominciando a fare rap È essere se stessi Che può sembrare una gran stronzata E una cosa detta mille volte Ma questo se poi lo andiamo ad analizzare Cosa significa? Prendere di ispirazione i modelli che avete Perché sicuramente dietro ci sarà qualcuno Che vi ha spinto a fare musica E non sto parlando per forza di voi Ma in generale Ma allo stesso tempo essere voi stessi Ovvero fare musica alla maniera vostra Perché questo è l'unico modo Credetemi per emergere nel mondo musicale Inutile dire che questo chiaramente è solo il mio parere Voi invece cosa ne pensate? Il singolo vi è piaciuto? Conoscevate questo gruppo? Cosa ne pensate così a primo ascolto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Se siete emergenti e state vedendo questo video E siete interessati a un po' di pubblicità Per modo di dire Ma anche semplicemente un mio parere Una mia critica costruttiva Qualsiasi cosa Scrivetemi nei social che ci mettiamo d'accordo su tutto Se il video vi è piaciuto vi invito chiaramente a lasciare un mi piace Nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale Se lo siete già attivate la campanellina Condividete questo video con quanta più gente volete e potete Noi ci vediamo ad un prossimo Slat Ciao 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 Ciao